Si continua a parlare di riassetti per la sanità, in questo caso si parla, l'attenzione è concentrata sull'ospedale di Vasto, in questo caso si parla anche di un passaggio di testimone per quanto riguarda le direzioni delle unità ospedaliere, in questo caso come si procede? Intanto mi sembra una grande opportunità per la sanità abruzzese perché dopo la programmazione, aver definito quali sono le vocazioni e le destinazioni dei presidi, la palla vera passa al giocatore, cioè ai buoni e ottimi operatori che possono dare più qualità al sistema sanitario regionale. Pertanto la scelta dei nuovi primari, cioè dei nuovi dirigenti, è fondamentale perché sono poi i giocatori, gli operatori che fanno davvero la differenza. In questo caso per l'ospedale di Vasto più volte l'opposizione ha parlato di lavori di messa in sicurezza e di adeguamento. Sono tutti i lavori che stiamo facendo, intanto rispetto al Consiglio Comunale che noi tenemmo come Governo regionale insieme al Consiglio Comunale, nel dicembre del 2014 gli impegni sono stati tutti rispettati. Da ultimo, lungo degenza, stroke unit, rete di emergenza e urgenza, i 118, le postazioni nel Vastese, da ultimo l'investimento sul materno infantile per renderlo in sicurezza ed è in arrivo finalmente anche la determina dirigenziale da parte della Regione Abruzzo che completa sia sul Lanciano che sul Vasto la messa in sicurezza del percorso nascita. Poi ci saranno ulteriori investimenti con la realizzazione del nuovo ospedale, non mi sembra poca cosa.